è già ragazzi non ci sono più le canzoni di una volta il rock ormai è morto guardi la quelli la con i campionatori con il computer fanno sta musica non è più i veri musicisti di una volta dove sono andati a finire ma dove andremo a finire avrete sicuramente sentite già frasi di questo tipo il web ne è pieno soprattutto se frequentate siete iscritti a qualche gruppo di facebook di musicisti e questo diciamo questa eterna idea dell'età dell'oro e la musica è una cosa che si ripete nella storia dell'umanità da sempre i nostri padri quando ascoltavano le canzoni che a noi sembravano rivoluzionari o nello specifico mi ricordo gli cdc che quando scoprì questo gruppo australiano fantastico lo fece ascoltare al mio padre e lui prima roba che mi disse mi sembrava questa qua non è musica questo è casino è rumore da urlare quando la musica è tutta un'altra cosa insomma questa situazione appunto di generazione in generazione si ripresenta e questa volta tocca a noi sì proprio tu proprio io quindi quelli che hanno passato la quarantina e che diciamo hanno formato la loro idea di musica molto prima della questa rivoluzione del web rivoluzione digitale potremo metterla circa dagli anni dal 2010 ad oggi sono cambiato un sacco di cose ma come dicevamo avuto questa voglia delle generazioni più vecchie tra virgolette di criticare la nuova musica non è mai cambiata allora mi avevo in mente di fare questo video però volevo andare un po' oltre alla classica di attriba pro e contro un po' da squadra di calcio cercare di capire invece cosa è cambiato davvero nella vita dei musicisti soprattutto dei piccoli musicisti chiaramente i grandi artisti rimangono grandi e trovano sempre il modo di accontentare il loro pubblico e accontentare se stessi nel mondo invece appunto dei piccoli musicisti come me come tanti altri e questo cambiamento è stato abbastanza traumatico soprattutto perché appunto noi venivamo da un'idea di musica molto diversa allora detto siamo di fare un confronto tra musicista dei nostri tempi della vecchia guardia del vero rock and roll e il musicista di oggi che si si approccia diciamo nell'anno 2021 a comporre nuova musica 1 l'artista componeva allo strumento e se doveva comunicarlo lo comunque a me modo cartaceo normalmente l'artista di oggi ovviamente con tutti i supporti digitali che ha difficilmente si mette a scrivere un pentagramma ma anche un tabulato tendiamo a registrare le cose te le faccio ascoltare ti dico gli accordi e la cosa è molto più facile e molto più funzionale quindi questo è un cambiamento ma che diciamo non crea grossi problemi altro cambiamento invece di mentalità che può creare problemi nel noi vecchia generazione è il fatto che non ci siamo formati con delle scuole di musica locali o comunque eravamo molto meno influenzati da tutta la proposta del mondo esterno soprattutto nelle piccole realtà magari in città era un po diverso però nelle piccole realtà come il mio paesino la musica passava attraverso o al maestro della scuola musicale o pochi amici che appunto si interessavano e facevano la scuola musicale e i cd non circolavano così tanto quindi ognuno verso i cd ci si passava si copiavano le cassette prima poi cd si veniva molto più influenzati da quella che era la cultura del luogo oggi invece chiaramente abbiamo un'offerta musicale da tutto il mondo in tutte le salse in tutti i modi e quindi non c'è più quell'isolamento tra virgolette culturale che molti di noi hanno subito motivo per cui io sono scappato sono venuto a gara bologna amica per altri e quindi anche dal punto di vista didattico era diverso perché appunto la era più difficile cominciare da autodidatta e imparare sulla chitarra oggi apri youtube ci sono 70.000 tutorial che ti spiegano per file per segno le tecniche quale chitarra comprare quale genere è meglio riferito a quello strumento insomma abbiamo la possibilità anche da autodidatti di imparare molto più velocemente uno strumento per noi l'artista era un bohemian era una persona misteriosa che secondo la nostra percezione non faceva altro che pensare alla musica e suonare dopodiché tutto aveva un mondo che era la casa discografica che si curava di tutti gli altri aspetti quindi di di promuoverlo di farlo conoscere di vendere dischi distribuirli gestire il merchandising e tutto quanto questo chiaramente dava al vantaggio all'artista di poter più concentrarsi sulla sua musica tra virgolette dall'altra parte però gli venivano tolte gran parte delle entrate che la sua musica produceva oggi invece abbiamo l'idea di un artista imprenditore una persona che deve conoscere non solo bene la musica quindi creare alla base una musica interessante e che arrivi velocemente ma anche saperla promuovere e quindi avevano tutta una serie di altre competenze che prima quasi non erano richieste musicista comunque almeno musicista credeva che di non doverle acquisire quali sono queste competenze mi sono segnato due cosine così allora la competenza vabbè quella tecnica di composizione e di abilità dello strumento non è variata magari sono cambiato gli strumenti ma in sostanza non è cambiata ci vuole la creatività produrre una musica che sia bella convincente sensata e che sia meritevole di essere ascoltata bisogna avere soprattutto delle competenze di registrazione di recording come si direbbe di editing sia dell'audio che del video nel senso che bisogna pian pianino imparare anche io sto cercando con scarsi risultati però a produrre contenuti video a editarli a produrre già delle demo abbastanza buone professionali perché sennò non riuscirevo neanche a farci notare da magari qualcun altro che può farci crescere dopodiché cosa serve sicuramente competenze di marketing nel senso che dobbiamo capire benissimo il mercato all'interno del quale ci muoviamo una volta anche questa era un'operazione che faceva la casa discografica spesso anzi erano già divise per settore per genere quindi se la casa discografica giusta ti prendeva sotto la sua ala protettrice e ti proponeva già in contesti più adatti diciamo alla tua proposta e oggi invece bisogna cercare di capire qual è l'esigenza dei nostri potenziali fan e cercare di andare incontro a quelle esigenze quindi il successo di un progetto musicale artistico in generale passa sempre attraverso la base dei fan che l'artista ormai deve crearsi autonomamente bisogna avere anche delle competenze di comunicazione e non possiamo più pensare che possa funzionare quello di mettere una foto ogni tanto fare i misteriosi e parlare solo di poesia o di sonetti o delle nostre ispirazioni notturne oggi bisogna comunicare in tanti modi bisogna capire come diciamo prima al pubblico farlo sentire partecipe dagli l'idea che può decidere che ha un potere decisionale in quello che stai portando avanti e allora questo stesso pubblico sarà quello che ti sosterrà ai concerti comprerà i dischi comprare le magliette e ovviamente io parlo sempre da teorico perché ancora io devo dire la verità non ho un pubblico che mi segue disposto a comprare i miei dischi e le mie magliette quindi chiaramente prendetela così per com'è diciamo dai miei studi che ho fatto sul web non nego che appunto io essendo uno della vecchia guardia ho ancora adesso una grossa difficoltà cerco per quello che posso di riuscire appunto a comunicare meglio e anche questi video sono un po finalizzati a questo però mi rendo conto che non ho la stessa scioltezza la stessa velocità nel capire come funziona la comunicazione oggi sui social dove appunto l'utente medio che compra musica sicuramente è un ragazzo molto giovane molto più di noi che in teoria dovremmo fare musica se la vostra musica spacca non avete bisogno di né di questi consigli né quelli di altri più autorevoli di me però diciamo che questo discorso è sempre comunque interessante farlo anche tra i non addetti al lavoro anche persone che semplicemente ascoltano magari come te sta ascoltando in questo momento e che si vogliono fare un'idea di cosa c'è dietro a questo mondo strano che è la musica se vuoi continuare a sentire questi contenuti queste chiacchierate ti sembrano interessanti iscriviti attiva la campanella così ti arrivano le notifiche rimani sempre aggiornato e soprattutto dimmi piasserebbe di raccontarsi la tua esperienza e se sei appunto come me hai più di 40 anni ti sei trovato un po spiazzato da questo cambio questa rivoluzione tecnologica del digitale oppure se invece l'hai presa bene e fai ottenendo risultati in quel caso magari spiegaci come o dove le persone dovrebbero orientarsi sarebbe utile a me ma anche alle persone altre persone che guarderanno il video e ci vediamo il mercoledì prossimo come sempre rivoluzione di parole intorno alle 6 ci vediamo ciao